Un torneo di calcetto per dire no al razzismo è Sport Antenne, il progetto nazionale promosso dall'Unione Italiana Sport per Tutti, che arriva anche in Basilicata. Noi abbiamo seguito la tappa di Nova Siri, sentiamo Viviana Pentangelo. Sei squadre si alternano sul campetto dell'Oratorio Sant'Antonio di Padova Nova Siri Scalo. I ragazzi giocano, ridono, si divertono, ma non è un torneo di calcetto tra amici. È una delle attività del progetto Sport Antenne, promosso dall'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Il calcio, come un momento di aggregazione e integrazione, diventa strumento per contrastare le discriminazioni razziali. 13 tappe in altrettante città italiane, un torneo itinerante con tante iniziative che è partito nel gennaio 2017 e terminerà a fine marzo. In Basilicata il progetto ha preso il via lo scorso novembre da Matera, grazie all'UISP provinciale. A Nova Siri la terza tappa, che ha coinvolto una cinquantina di ragazzi migranti ospitati nei centri d'accoglienza o inseriti in progetti SPRAR. Sono originari soprattutto dell'Africa subsahariana. Abbiamo anche conosciuto tanti ragazzi, tanti ragazzi, tanti amici italiani. Per questo partito abbiamo a conoscere qualcuno che non conosce, ma sono a diventare famiglia. Prossimo appuntamento a febbraio a Sant'Arcangelo, si chiuderà a marzo a Gorgoglione. L'accoglienza nei comuni dove siamo intanto è più che buona. Anche un po' a smentire quello che ultimamente sta succedendo qua in Basilicata, come è successo a Laurenzana, dove tra l'altro noi come UISP il giorno dopo che abbiamo avuto la notizia abbiamo scritto al sindaco di Laurenzana e abbiamo proposto una tappa straordinaria anche in quel paese. Non c'è stata data risposta, ma noi insisteremo. Grazie. 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 Grazie.